Piazza Affari chiude in rialzo, stimolata nel pomeriggio dai progressi di Wall Street, dalle voci su un possibile compromesso sul debito greco. L'indice Futsi-Mib guadagna lo 0,53%, mentre l'All Share registra un progresso dello 0,49% al termine di una seduta caratterizzata da scambi sottili, poco sopra il miliardo di euro di controvalore, anche per la parziale chiusura di mezza giornata della borsa new yorkese. In flessione invece l'indice Star a meno 0,16%. Dopo una mattinata in sapore, con l'indice poco mosso, Piazza Affari si è risvegliata nel finale. Sulla Grecia le indiscrezioni riferiscono che Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale sono al lavoro per trovare un compromesso in vista della riunione degli Eurogruppo di lunedì.